Ben trovati, amici del Centrometrio Italiano. Piccolo peggioramento nei prossimi giorni a causa dell'arrivo di una blanda perturbazione. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni per giovedì 6 giugno. Al mattino le prime piogge bagneranno le regioni nord-occidentali, mentre altrove il tempo rimarrà asciutto ma con molte nubi sparse. Peggioro ulteriormente al nord Italia lì al pomeriggio con acquazioni sparsi e locali temporali. Qualche precipitazione anche in Toscana e sugli appennini centrali, irregolarmente nuvoloso altrove. In serata è inottata residui fenomeni soprattutto sull'arco alpino e sulle zone limitrofe, tempo stabile sulle altre zone con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi. Per quello che riguarda le temperature queste tenderanno ad aumentare specie al sud, in diminuzioni invece al centro nord. Tutte le previsioni dettagliate per le vostre località le trovate sul nostro sito oppure sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.